Allora, volevo fare delle domande che alcune domande lei ha già risposto nell'introduzione e le volevo chiedere invece, è una domanda più personale, dato che questo è il suo primo romanzo se per diventare scrittori bisogna passare necessariamente una sofferenza? È una domanda bellissima che mi sono posta per tanti anni Guarda, io penso di no, cioè nel senso che le sofferenze le passiamo sicuramente tutti magari è difficile individuarle come sofferenze proprio perché viene da dire no, vabbè, è normale, cosa mi lamento, non sono sicuramente la persona più sfortunata della Terra anche se mi sembra di esserlo, eccetera Io era da anni che provavo a scrivere, scrivevo quelle cose tremende cioè tremende ma anche belle, nel senso è bello che uno lo fa cioè sai, a tarda notte, quando in camera lì nascosto dai miei genitori sui foglietti che poi nascondevo nel cassetto e che poi mia mamma andava a leggere penso che davvero sia capitato a molti però secondo me l'unica cosa davvero necessaria almeno per quanto ho capito dalla letteratura finora per scrivere è uscire da se stessi cioè nel senso, io credo che soprattutto alle ragazze poi non so, è un'idea provvisoria perché probabilmente sono troppo giovane per saper rispondere davvero a questa domanda però soprattutto alle ragazze ma anche comunque a molti ragazzi viene molto spontaneo già considerare la propria vita come un'opera d'arte almeno quelli che hanno voglia di scrivere tutti pensano no, però successe queste cose pazzesche che il mondo deve sapere io perlomeno sono riuscita a scrivere qualcosa che avesse un senso compiuto che poi è questo libro qui soltanto quando mi sono messa da parte e ho cercato pur raccontando una cosa autobiografica di inventarmi un personaggio di inventarmi una voce più che altro che non fosse la mia poi in realtà quel personaggio appunto in parte sono io però non è la voce dell'autore la voce narrante è la voce di uno dei personaggi probabilmente è utile anche provare a scrivere in terza persona sempre per evitare appunto il cosiddetto diarismo non lo so, poi penso ci siano molte strade diverse sicuramente poi una sofferenza particolare è qualcosa che arricchisce però non è detto che per esempio i miei genitori erano stati molto più coinvolti in questa vicenda rispetto a me che ero più piccola sicuramente e mio padre per anni aveva detto ah un giorno ci scriverò un libro però era sempre fermo a metà di pagina uno e poi ha detto vabbè ma già ho sofferto per questa vicenda perché devo ancora soffrire perché non riesco ho il blocco da pagina bianca quindi ecco di per sé la sofferenza non è sufficiente quindi se hai avuto una vita felice non preoccuparti potrai scrivere lo stesso Salve io sono del liceo non mentano e volevo fare due domande al signor Ventura prima nell'introduzione lei ha detto che il protagonista Fabio era un giornalista esperto che per cui cerca di scavare più a fondo nelle vicende però io sinceramente in dei punti non l'ho trovato così per esempio ora mi viene pagina 29 quando uno dei primi eventi quando la traduttrice dice che se tornano qui in determinato posto adesso non mi ricordo sono fortunati se non li hanno già uccise e che se provano a tornarci saranno sicuramente fatti fuori e lui invece di dire cioè invece di essere tra virgolette rammaricato della cosa per il fatto di non aver potuto sapere tutta la verità dice hanno ragione di che chi ci torna ormai il pezzo c'è c'è come se si preoccupasse tra virgolette anche soltanto del pezzo questa è la prima faccio tutte e due e poi e l'altra invece mi ha colpito molto un verbo che penso sia stato usato apposta quando appunto dopo questa esperienza c'è il dialogo tra Fabio e la traduttrice e la traduttrice inizia a fargli domande lui si sorprende perché di solito è il contrario e invece dice avrà le sue opinioni non indago ma io io voglio davvero scoprirmi per cui mi sembra che questo viaggio sia fatto non solo per dire la verità agli altri ma anche per indagare su se stessi volevo sapere se anzitutto se questi due pezzi erano in parte autobiografici e se appunto questi viaggi servono veramente a indagare sulla propria persona grazie sì grazie della domanda in realtà dovrei svelare delle cose che però credo che corrispondano purtroppo alla cattiva immagine che già i giornalisti hanno spesso anche gli inviati diciamo che si trovano in situazioni difficili la realtà è che il giornalista esperto è quello che riesce a portare il pezzo a casa il giornalista esperto è quello che riesce molto semplicemente a trovare una notizia che sia intrigante per chi legge ma soprattutto poi per chi per il direttore per chi al desk ha il compito poi di valutare se effettivamente la notizia è in grado di reggere per esempio un'apertura di pagina o comunque di reggere in generale e questo significa che purtroppo molto spesso la possibilità di andare più a fondo nelle vicende che si raccontano è sacrificata è anche vero che oggi in realtà il giornalismo degli inviati di guerra è quasi finito non esistono più gli inviati che una volta se ne andavano per tre mesi quattro mesi cinque mesi a seguire una guerra io mi ricordo la prima volta che sono partito per una guerra importante è stata la prima guerra del golfo io sono rimasto fuori sei mesi adesso non esiste più questa cosa e da un certo momento in poi è successo che i desk delle sedi dei giornali hanno preso il sopravvento sugli inviati cioè sugli occhi che venivano mandati a vedere effettivamente le cose e a volte hanno cominciato a essere più importanti più veritieri tutti gli elementi più veritiere le informazioni che arrivavano da agenzie di stampa che non erano sul posto oppure dalla televisione che per sua natura non può veramente andare a fondo alle cose piuttosto che l'inviato che veniva mandato sul luogo un altro ricordo così che mi viene in mente che può essere utile proprio per rispondere alla tua domanda io mi ricordo una volta di essermi trovato sotto un bombardamento in Croazia e non esistevano ancora i telefonini le cose per cui ho dovuto raggiungere un telefono che peraltro era una situazione anche un po' pericolosa perché c'era un lucernario eccetera era il primo giorno di un cessato il fuoco e la risposta che mi sono sentito dare dal caporedattore era vabbè ma l'ansia dice che la tregua regge quindi non si credeva neanche a chi stava a chi stava lì ora effettivamente in questo romanzo c'è anche questo elemento autobiografico di delusione per che cosa è diventata questa professione di giornalismo e c'è anche però il desiderio di far vedere che in certi momenti esiste ancora seppure così in misura molto limitata il desiderio di rompere questa questa gabbia del meccanismo dell'informazione che brucia tutto in poco tempo e vedere un poco più più al di là un po' Grazie a tutti.